Ieri credevi di essere una ragazza come tante. Oggi tutto il tuo mondo è stato stravolto. Perché io ti vedo e gli altri no? Non sei una mondana. Cos'è una mondana? Una persona del mondo degli umani. Cosa sono se non sono umana? Se te lo dico non mi credi. Quello che hai sentito dire sui mostri, sugli incubi, sono tutte storie vere. Tu hai un dono e noi abbiamo bisogno di te. Io ho bisogno di te. Tua madre era una cacciabrice. Come lui, come te. Esseri con un potere immenso. Abbastanza forti da proteggere l'umanità in una guerra contro il male. Il mondo ci aspetta. C'è una mappa nella tua testa, Clary. Sei la chiave della nostra sopravvivenza. Sono io che ti sono sempre stato vicino, non lui. Cosa ha di speciale? È diversa. Ci farà uccidere tutti. Oh no. Clary, schiappa! Ce ne sono troppi. Voglio mostrarti chi sei veramente. Chi eri destinata a essere. Tu non sei niente di me. Cosa è un giovane... Grazie per la visione!